Diva un po' la spazzola, fammi vedere Perché secondo me, non so se questi capelli sono molto pettinabili in realtà Ciao, mi saltate la spazzola Ok Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi si fa trick e track e trick e trick e trick Ma speciale Se avete visto l'ultimo video di Mega Wow Sì Saprete che Happy mi ha mandato le OMG Ma non una sola Te ne avrò mandate due Non due Te ne avrò mandate tre Non tre ma ben quattro OMG No Cioè tutta la collezione È incredibile Sì e oggi ne apriamo una Allora una l'abbiamo già aperta su Mega Wow Sì E voi di sicuro l'avete già vista Sì Adesso oggi ne apriamo una qua Poi ne apriremo un'altra qui sul nostro canale E l'ultima L'apriremo su Mega Wow Quindi seguite sia noi che Happy Sì però Oggi Ebbene sì Apriremo Neon Leach Miss Eccola qua Secondo me è molto carina Perché è tipo Poi c'hai i pantaloni morti E questa non è Anche solo le scarpe alte Guardate le coccorri Nella boccetta Le faccio Sofì La verità è che noi siamo curiosi Perché Abbiamo già visto Dei video dove aprivano le OMG Sì E erano bellissime Ma Mai Ehi Ehi E E abbiamo visto tutte le altre E lei non l'aveva mai vista dal vivo No Siete pronti? Siete curiosi? Sì Allora Dammi le forbici Mi raccomando Attenti perché In fondo al video Ci sarà un Sondaggio Sondaggino Sondaggio Sondaggio Perché noi vogliamo sapere Qual è la vostra preferita Sì Però prima la dovete vedere Perché in realtà Queste OMG Viste Nei post Nelle pubblicità Nelle post Ci convincevano tanto 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 No Ma viste dal vivo Ve lo giungo Sono bellissime Sono fantastiche E allora Non vediamo l'ora di vedere questa Pronta Sofì? Adesso Togliamo questo Sì Non ci serve Tira la sua Inizia a scorrere Perché la vogliamo vedere Perché adesso Sembra Un po' oscuretta Sì E poi invece Cosa succede? Oh my god È tutta neon lei Finiamo E lì sotto Che ci sarà invece Sofì? Facciamo una alla volta Ma cosa è la volta? Vediamo tutte le cose Che ci sono lì Ah ci sono Sapete cosa sono Quei non sono più gustine Vero Sofì? No Ma sono porta abiti Eh Che hanno tutti Delle texture bellissime Sì Tipo Questi Che sono Tutti un pochino Hypnotici Oppure altre cose Questa è la rivistina piccina Che poi Si chiede Ma non sarà la sua carta D'identità Tipo? Sì Tipo Dove lo prende Qual è il tuo segno zodiacale? I gemelli? Sì Esattamente come Neon e Chius Beh Uh Questo sembra una cappelliera Eh sì E questo invece sembra È una scatola di scarpe È la scatola di scarpe Guardate che scarpe ragazzi Però prima vogliamo vedere lei eh Non aprire i suoi vestiti prima Ok Allora vediamo lei Teniamo tutto là pronto E adesso però facci vedere Oh my god Come bella Ciao Rosine Eh lo so È incredibile La sbirciamo È giallissima Vabbè ragazzi La manicure Ragazzi la manicure Adesso poi la vediamo Allora Adesso Sofì Ci serve un piccolo pit stop Per liberarla tutta Senti tranquilli La libero io Liberiamola dai Presto Allora Siamo pronte? No Niente Ancora nulla Uh che bello specchio Che c'è qui dentro Aspettate che lo liberiamo eh Wow L'ho liberata Voilà che bellina Allora Prisentati un po' Facci vedere come sei Tanto di vero Eccomi Sono Neonicius Vi piaccio? Sì Guardate che frisechea Oh Sono un po' Ingestate adesso Poi li sistemiamo Eh anche le ciglia tutte Zig e zag Frise come i capelli Vero Sofì? Eh È bella Mi sta montando il piedistallo Sofì mi sta montando il piedistallo Aspettate eh C'è un po' di cose Spunzone nella testa Se qui non me le ha tagliate tutti Però Guardate sono gialla Neon Fluo Oh Sofì Hai la madetta Dello stesso colore Dei tuoi capelli Dimmi un po' la spazzola Fammi vedere Perché secondo me Non so se questi capelli Sono molto Pettinabili Ciao Ciao Date la spazzola Ok Dove è andata la spazzola No ma no un attimo Sieni amore Allora vedere sul piedistallo Perché questa è un'altra delle cose Delle Lolo AMG Che mi piace tantissimo Che hanno il piedistallo Hanno il piedistallo Guardate Allora io voglio vedere tantissimo Le sue scarpe Ah Devevo far mettere una cosa Però la posizione È quella da Barbie Vedete Con i piedi in su Quindi con i tacchi Forse avrà delle scarpe sportive Ma molto alte Guardate Allora Questa è il suo numero di scarpe E adesso la apriamo Allora Allora Guardate che carino Questo sacchettino È come quando andate in boutique A comprare le scarpe Vero? Sì Eh sì Oh Arrivano Oh Ma Siamo Dove sono Sofì Non le ho viste Faccele vedere Madonna Te l'avevo detto Che erano alte Le sue scarpe Aspettate Ma parecchio Guardate un po' Yeah yeah C'hanno un filo di zeppa Non tantissimo Eh Sofì Un filo di zeppa No no Le mettiamo subito Vediamo come gli stanno Sì dai Dai Allora Vediamola dal piedistallo Dai Lei è fatta questa Vediamo un po' Se Sofì ce la fa Che fa Non gli entra il piede Oh Non gli sta Ma come non gli sta Vieni Te la metto io Sarà un po' difficile Gli ha fatto il numero Di scarpe Troppo piccole No Gli hanno messo le scarpe Troppo piccole Io non ci credo Vieni dammela a me Che proviamo a vedere Io intendo posso aprire Questo qui per gli accessori Sì Oh my god Ho visto una cosa bellissima Allora ce l'ho fatta Sofì Allora c'è una cosa senza sacchettino Vediamo un po' Dai C'è questo Cos'è Oh il suo cappello È il cappello Quello quello francese Con tutti i brillantini Guarda Sofì Così Però non si vede Eccolo Il suo basco Allora Vediamo un po' Secondo me con queste scarpe Sta presente anche da sola Sofì ce l'ho fatta Vuoi vederla? Sì La voglio vedere Eccola Guarda un po' Con le scarpe Come sta? Eh Con i piedi Però mettere sul piedistallo Vediamola un po' Ok Rilacciarlo il piedistallo Perché c'ha delle zeppe giganti Eh Eh Ragazzi Questa LOL È vera Questa OMG È veramente alta Cioè guardate il piedistallo È quasi all'inno È in cima È in cima È vero Eh ma le zeppe sai Eh Ho le zeppe alte io Adesso però Appoglio Aspetta Sofì Posso fare solo una cosa? Proviamo gli occhiali Ti prego Vediamola Wow Non credo veda molto eh Però Ti piaccio? Sono molto trendy Mi metti anche gli orecchini Sofì? Sì ti metto anche gli orecchini Che poi mi piace questa cosa Che per metterle Le bisogna alzare un pochino I mappelli Guardate Guardate com'è nel disegno È È bellissima Cioè è più bella nella realtà Che nel disegno C'è la salupetta Con la gonna L'hai usata ora Sì Ma mamma Guardate è bella Bright color Sì Però adesso Perché non guardi Oh my god Che carino C'è davvero la borsa Piccola miallina È bellissima È bellissima È bellissima C'è gli occhiali C'è gli occhiali a micetto È calda Occhiali a micetto Chi ha detto micetto? Dai dai Preparola tutta prima Eccomi Cappello Aspettate Sofì mi sta mettendo un sacco di cose Non ci capisco più niente Sofì Sì C'è un problema Che problema? Con questi occhiali non ci vedo davvero niente Adesso ci sono portabili No vabbè La solo pet Non è rosa Cioè Sì è rosa Però non è rosa opaco È rosa? Ragazzi È trasparente No Sì È incredibile Riescono Vedete che riescono sempre a sorprenderci E l'olio riescono sempre a sorprenderci No È la fine del mondo Carino Che bello ragazzi Chi fa un punto l'ora di vederglielo addosso? Sono curiosissima Allora mettiamo Le mettiamo subito? Dai dai Sì Io devo togliere questo Eh sì eh Tesorino Ecco Fatto Magna avanti Stanno aperti in arrivo Aspettate ragazzi Sofì Concentrate Vediamo se riuscirà nell'impresa L'avete mai vista così seria? Sofì Sofì è super serissima Gira mi ti prego Che lucciugattine Mi vogliono vedere Che carina Che ne dite ragazzi? Aspetta Facciamogliela vedere tutto Aspetta Aspetta È o non è bellissima? Eh a me sembra proprio di sì Beh Perché questo effetto trasparente Della sanupette Guardatela un po' Che ne dite? Sofì ce la giri? Ecco brava Per le braccia Così si vede E adesso che cosa tocca? Cosa ci sarà in quell'altro portabili? Secondo me C'è quel meraviglioso giubbottino Tutto leopardato Il giubbottino leopardato? Sì c'aveva C'aveva il giubbottino Eh Ma non è leopardato? Eh mi sa di no No Che bello Aspetta lo faccio vedere a mamma perché Perché? È la fine del mondo No ma sono di pelle Sono Ma mamma Che c'entra che sono di pelle? Mamma Che c'entra che sono fatti di pelle Quando c'ha la zip vera? Quando la zip vera? No non è possibile A che cosa ti sembra? Ferma Tieni lui Ah la zip Guardate Giubbottino Zacca 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 Presto presto Indossiamolo Mi mettiamo il giubbottino Vieni qui tesoro Chiari prendila a te però amore Se no non ce la facciamo Vesti zio Guarda un po' che meraviglia Col suo giubbottino Scusate mi posso presentare? Ciao a tutti Guarda che bello Io sono Neolicius Guardate ho il giacchettino Che perfino si chiude con la fibbiettina Ti piace? Hanno gli occhioni grandi come le lol Normali C'hanno gli occhioni che occupano tutto il viso Sofì mi sta preparando una casetta mi sa Cos'è successo Sofì? Niente niente La tua casetta sta venendo benissimo Ehi ragazzi L'avete vista la mia manicure? Guarda lì che bella Vi dovete fidare Ha una manicure verde Ma le unghie lunghe 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 Eccola così si vede Ci voleva la tua mano Vedi Sofì? Sofì? Sì? Io vorrei sapere una cosa Cosa? Chi eri sono? No Sì tantissimo Sei bellissima Sei un botto bella Sei bella Mettila qua sul piedistallo Guarda la ciccita Miau Ahia sono caduto Miau Il fondo miau E il terzo miau Guardatele un po' La tribù dei miau Della nostra neolicius Sì cosa sta facendo La parrucchiera Sì c'è un ciuffo Sto cercando di sistemargli Questo ciuffetto I frisier non vanno via Pettinatele delicati 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 Mi raccomando Delicati Solo per togliere via Un po' di cera Che gli hanno messo Per stare dentro la scatola Niente Adesso Sofì L'abbiamo già pezza Perché Si è messa lì A giocare Con la sua nuova LOL OMG 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 Ommelograno Come direbbe qualcuno Ommelograno Ragazzi Spero tanto che Questo video Vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Youtube Attivate la campanella Ding dong Ding dong E Ciao Alla prossima Ciao Miau